Presidente, Presidente, Presidente! Vieni, è brutta! Ma ci deve essere prima il Guarello e poi il Puello, perché tu hai visto qui? Guarello è il Puello, Presidente, che abbiamo visto! Vieni, Privello! Mettelo su un piano fisico, vieni! Stai facendo! Stai facendo! Vieni, Privello! Io vedo la presenza del Presidente del Consiglio, Laura Roccoi Daero, Presidente del Consiglio! Segnate, il Presidente del Consiglio! Vieni, è brutta! Prefetto, Presidente del Consiglio! Seballs, Privello! Seballs, Privello! 全 Grazie a tutti.